Ecco come appare la città di Khan Yunis, nel sud dell'Astriccia di Gaza, dopo il bombardamento dell'aviazione israeliana che va avanti, notte e giorno. Dopo l'attacco di ieri è stata distrutta un'intera zona. Secondo gli ultimi dati, a seguito degli attacchi sono morte 60 persone e più di 100 sono rimaste ferite. Il numero totale delle vittime a Gaza ha superato le 6.500 persone e i feriti sono oltre 17.000. Questi sono i dati del Ministero della Salute di Gaza. Io mi scuso se sono ripetitivo, ma questi crimini devono essere raccontati. Nulla può giustificare questo genocidio perché gli ebrei stanno uccidendo migliaia di bambini e donne. Penso che i bambini non possano essere annoverati fra i terroristi, almeno credo. Io spero che risponderanno di tutto questo come avvenne con il Tribunale di Noriberga per i tedeschi, di cui loro sono dei degni eredi. Grazie. Grazie.